Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre, la rassegna stampa del mattino in diretta alle 7.30 tra poco i giornali, subito la foto di Fano che si sveglia sotto un cielo tutto sommato niente male nel senso che non piove, non è certo sereno ma comunque fa freddo invece, fa freddo anche questa mattina abbiamo due gradi e mezzo alle 7.30 in punto, poco vento, brezza leggera, insomma per ora nessun fenomeno da segnalare vediamo per la giornata di oggi le previsioni della protezione civile delle Marche che prevede un cielo parzialmente nuvoloso, nuvoloso per stratificazioni medio-alte con addensamenti più intensi sui settori montani in particolare nel corso del pomeriggio il limite delle nevicate è verso i 1200 metri dalla sera o notte tra giovedì e venerdì dove ci saranno possibili deboli e locali precipitazioni sempre all'interno temperature lieve aumento nei valori massimi, venti meridionali, il mare poco mosso vediamo per domani, venerdì 30 gennaio, vedete il tempo peggiore soprattutto nell'entroterra dove ci saranno precipitazioni diffuse dove risulteranno anche più abbondanti in estensione verso la costa in particolare durante il pomeriggio il limite delle nevicate in calo verso i 500 metri in serata le temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi i venti sono dai 40 occidentali, vento teso, mare mosso per sabato 31 gennaio, ultimo giorno del mese, cielo nuvoloso, temperature in diminuzione i venti meridionali di brezza leggera non si prevedono particolari fenomeni di foschia, di nebbia e quant'altro quindi per domenica invece non sono previsti cambiamenti sostanziali un peggioramento delle condizioni del tempo invece è previsto durante la prima parte della settimana vogliamo vedere il santo del giorno? guardiamolo il santo del giorno oggi è beata villana delle botti, madre di famiglia che è stata beatificata vissuta nel 1332 nacque a Firenze da una nobile famiglia si convertì da una vita mondana dopo che ebbe una visione del diavolo entrò nel terzo ordine di San Domenico e condusse vita austera fino alla morte il sole è sorto alle 7.28 e tramonterà alle 17.14 il messaggero, effetto quirinale sulle regionali alla via il voto per il capo dello Stato con i grandi elettori delle Marche che lo ricordiamo sono tre, tra cui anche spacca ripercussioni sulle alleanze le primarie del Partito Democratico dividono anche marito e moglie dirigenti democrat lui vota Marcolini, lei Ceriscioli Lucia Annibali sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco l'incontro con il Pontefice forse già la prossima settimana il prossimo mercoledì o al più tardi quello successivo Lucia Annibali è la 35enne avvocatessa urbinata vittima dell'aggressione con l'acido del 16 aprile del 2013 arrivano nuovi profughi inaugureranno l'albergo Catria la struttura è situata a Cantiano e ospiterà una trentina di rifugiati Ancora le pagine interne del messaggero anche qui grandi elettori alle manovre per le regionali effetto querinale sulle possibili alleanze e strategie stiamo parlando delle alleanze e delle strategie per la corsa a governatore della regione Marche Ceriscioli, l'ex sindaco di Pesaro Ceriscioli Marcolini incontri per le primarie scontro via Facebook tra i sostenitori il rebus quota rosa nelle liste del Partito Democratico Ancora dal messaggero bollo, revisione e assicurazione siamo sulla pagina di Pesaro la superpistola svela chi non paga basta centrare la targa sarà usata presto dalla Polizia Municipale di Pesaro questo però avviene invece già nella città di Fano nel senso che c'è questa tra virgolette pistola che legge le targa ormai in azione sulle strade fanesi da un po' di tempo da parecchio tempo Odissea invece per un malato di Alzheimer lo racconta, la racconta il messaggero sulla pagina di Pesaro sei ore per la visita al pronto soccorso il primario si scusa ma abbiamo, ha detto, tanti accessi a causa dell'influenza e al San Salvatore invece c'è stato questo espianto multiplo di organi, di tessuti un espianto che è avvenuto al San Salvatore sono stati donati da un 51enne di Fermignano deceduto in rianimazione dopo un'embolia celebrale una operazione che è durata anche tante tante ore possiamo dire che si è sviluppata in due giorni in anzi, sì, in un paio di giorni no, un giorno, 24 ore ha durato quasi 24 ore insomma, quindi un'operazione un intervento davvero importante la stella israeliana del folk rock trova sul San Bartolo il suo Buen Retiro ora è ufficiale, il cantante ha acquistato casa sul colle dei VIP Asaf Avidan che è appunto questa persona che vedete sulla fotografia stella israeliana della dance e del folk rock ancora dal messaggero catturato lo spacciatore da mille euro al giorno tra gli applausi della gente è stato preso nel parcheggio dell'Ipercop di Pesaro era soprannominato Cappuccetto Rosso droga giro di vite della polizia in tutta la provincia con una serie di arresti e un giovane nascondeva la cocaina nella pasta tra penne e farfalle arrestato un 24enne di Cagli era sicuro che nessuno avrebbe mai controllato all'interno della vecchia cassetta nella sua abitazione nell'armadio della sua abitazione né tantomeno che dopo aver aperto il mobile qualcuno potesse sbirciare tra le scatole della pasta invece i militari hanno di Urbino quando mercoledì sera si sono presentati a casa di questo giovane albanese hanno controllato in ogni possibile nascondiglio trovando 50 grammi di cocaina tre ragazzini rubano invece al circolo degli anziani di Fossombrone sono stati bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento a piedi due sono stati trattenuti in cella il terzo che ha 17 anni è stato denunciato con se aveva anche delle dosi di hashish e poi ancora dalla pagina di Fano del quotidiano romano truffa del biologico si allunga la lista degli indagati la Guardia di Finanza ha individuato altri responsabili coinvolti nel maxi raggiro del falso bio e poi udienza d'appello per le nozze gay contro la sentenza che ne ha ordinato la cancellazione e poi sulla Saipem Eni congela la vendita Ricciatti di Selle dice questa è una buona notizia meningite a San Costanzo oggi l'addio al piccolo Francesco alle 15 nella chiesa di San Cristoforo a Orciano e poi a centro pagina invece i 5 Stelle 5 Stelle che riaprono il caso Profilglas o Miccioli serve dice una commissione d'inchiesta la sanatoria non va il sindaco garantisce le tutele ambientali promesse anche ai cittadini ma demolizione e ricostruzioni non sono una risposta apriamo la pagina di Fano invece adesso del resto del Carlino sarà un carnevale animal friendly sfilano i cuccioli per essere adottati sono quelli del Melampo vestiti a festa dalle Sarte poi ci sono ovviamente tante altre iniziative che sono state presentate ieri nel corso di una conferenza stampa a Fano Luciano Cecchini che è il presidente dell'ente carnavalesca ha detto vogliamo sensibilizzare i visitatori a incentivare gli affidamenti capienza sempre a proposito di animali di cani capienza massima di 180 ma ne abbiamo 210 sono i numeri del canile di Fano parla Simona Maroccini che è la responsabile appunto dell'associazione dell'associazione Melampo sulle regionali il partito democratico sempre dalla pagina di Fano pensa al terzo uomo che è appunto Federico Perini si candida e lui dice io sono a disposizione nel centro-destra e battaglia all'interno di Forza Italia grandi manovre dunque per le regionali è data per certa la candidatura di Paolini mistero invece attorno alla candidatura di Giancarlo Danna la Corte d'Appello ascolta i coniugi sul matrimonio gay contestato nuova udienza questa volta la Corte d'Appello di Ancona per la coppia Fausto Schermi ed Elvin Van Dyck dopo la decisione del Tribunale di Pesaro di disporre la cancellazione del loro matrimonio celebrato in Olanda nel 2008 dal registro dello Stato Civile del Comune di Fano dove era stato trascritto dal sindaco sciente Stefano Guzzi alla fine di maggio del 2014 praticamente al termine del suo mandato ancora dalla pagina di Fano uno studente della Polloni decide di frequentare il terzo anno in Cina si tratta di Francesco Serafini che frequenta la terza A della sezione arte figurative un alunno che sta frequentando l'anno scolastico nel nord-est della Cina a mille chilometri dal confine con la Russia poi per quanto riguarda il caso Profilglas la fotografia si riferisce a Marta Ruggeri membro della Commissione Cultura chiama il sindaco in causa i Grellini chiedono commissione di indagine sullo sviluppo dell'area industriale di Bellocchi di Fano poi a centro pagina invece il dibattito con Paolo Bonetti che è contrario ai finanziamenti a pioggia dice no ad una nuova fondazione culturale meglio che il teatro torni all'assessorato sull'asse Pesorubino sarebbe molto positivo una collaborazione di Fano con il grande Vittorio Sgarbi sul porto Dregaggio Scarpetti poteva mobilitare l'IDV Solazzi replica al consigliere regionale la storia di quest'uomo dipendente che va all'estero e gli arriva a casa una bolletta da 26 mila euro una disavventura di un dipendente pubblico pesarese che ignora i messaggi del gestore la Feder Consumatori ha avviato una conciliazione con Telecom che si basa sulla buona fede e questo davvero succede soprattutto quando ci sono i dati connessi che continuamente si scaricano con i nuovi smartphone e di conseguenza bisogna ricordarsi e soprattutto bisogna leggere veramente i messaggi che arrivano dai gestori del paese che vi ospita perché lì c'è scritto come fare per evitare in queste situazioni tampona due auto invece la cronaca tampona due auto e fugge possibile che nessuno abbia visto nulla l'incidente sulla statale martedì alle 18.15 la delusione di due anziani coinvolti che hanno chiesto di chiamare i vigili urbani sembrava un normale tamponamento scrive il resto del Carlino dovuto ad una disattenzione e forse all'intenso traffico sulla statale all'altezza del semaforo di via Milano a Pesaro invece per i miei genitori racconta Alessandro è diventato qualcosa in più ovvero una grande delusione il perché e il per come lo potete leggere sul giornale di questa mattina andiamo per chiudere sulle ultime due pagine del resto del Carlino a centro pagina quel banco di Cesco che non c'è più e i compagni lo salutano con i disegni oggi alle ore 15 i funerali del bambino morto per meningite una docente commossa dice abbiamo dato ad ognuno un foglio bianco su cui esprimere le proprie sensazioni vedete come i compagni del piccolo Francesco hanno in qualche modo raccontato il loro dolore e ancora dall'ultima pagina del resto del Carlino da Fossombrone il furto che è stato messo a segno la notte scorsa da due ragazzi che sono stati poi arrestati dai carabinieri di Fossombrone in collaborazione con la radiomobile di Fano furto al circolo anziani dicevo presi dai carabinieri in manette due ragazzi denunciato anche un minorenne di 17 anni che fungeva da palo con loro durante la perquisizione sono stati trovati anche 56 grammi di acisce 510 euro in contanti con questo si chiude qui la nostra rassegna stampa Occhio Giornali torna domani mattina alle 7.30 come sempre l'appuntamento è anche per le repliche alle 9.10 alle 13.30 oppure un demand sul nostro sito occhialanotizia.it mentre per tutte le altre notizie c'è stasera il telegiornale alle 20.30 grazie per averci seguito e buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti